Festa europea della musica. Oggi a partire dalle 18.30 a seguire fino a tarda serata, il centro storico di Fano diventa un grande palcoscenico. È la prima volta che Fano partecipa a questo evento che vede fondersi tra loro, sotto il segno della musica, culture, razze e religioni diverse. Promotore di questo evento internazionale è l'associazione Fano Music Story, preseduta da Paolo Casisa. Rocca Malatestiana, Piazza 20 Settembre, Sassonia, Corte Malatestiane e Chiostro delle Benedettine, i punti nevralgici della manifestazione.